Alvia la trentatresima edizione del Festival Etnia e Teatralità, partito ieri al Cine Teatro Astra a Sassari, organizzato dalla Compagnia Teatro Sassari. 11 gli appuntamenti in cartellone, da settembre fino a marzo. Ieri, oggi e domani in scena la brea della Compagnia Teatro Sassari. Sono appunto 11 appuntamenti che vanno da settembre fino a marzo. Il Festival Etnia lo abbiamo istituito nel 1989, è stata un'idea di Giampiero Cubeddu, e poi infatti al quale abbiamo anche dedicato, ogni anno dedichiamo il Festival. Ed è un Festival che mette, diciamo così, a confronto tutta una serie di etnie provenienti anche sia da altri paesi, sia da altre regioni. Il Festival, diciamo così, si connota in quanto l'etnia, l'etnia oggi a teatro, è una delle, diciamo così, delle forme teatrali più interessanti e anche più innovative nel campo del teatro nazionale e internazionale. L'iniziativa è stata presentata nei giorni scorsi nella terrazza del Cine Teatro Astra, una location inconsueta che il Comune di Sassari intende valorizzare.